Chiamo ora sul palco un'altra commercialista Giulia Roncoroni Ciao Giulia, ben arrivata, benvenuta. Grazie, grazie. Eccoti qua. Allora, il tuo talk parla di come trovare informazioni affidabili su tasse, contributi, partite IVA eccetera, oltre che ovviamente dalle nostre commercialiste. Certo, no, infatti poi in realtà ne parliamo, nel senso non è una cosa in sostituzione chiaramente, però volevo anziché parlare di una cosa specifica, di un regime fiscale o dei contributi o di una cosa che magari riguardava solo qualcuno, volevo proprio dare una panoramica in cui ciascuno si potesse infilare insomma e trovare il suo. Benissimo, a te. Grazie. Eccoci. Allora, no, come dicevo, nella mia presentazione quello che vorrei fare è darvi ecco qualche consiglio per poter sfruttare al meglio le informazioni gratuite che già possiamo trovare online per rispondere alle nostre domande. Chiunque di voi abbia mai cercato online informazioni sul mondo delle tasse della partita IVA si sarà reso conto che il problema non è trovare delle informazioni, ma innanzitutto comprenderle, perché non è detto che quello che troviamo sia sempre scritto con un linguaggio accessibile a tutti, e poi capire se l'informazione che abbiamo trovato è effettivamente quella giusta per noi oppure no. Questa difficoltà nasce poi dal fatto, da una caratteristica intrinseca della normativa fiscale che è un po' labirintica, nel senso che ci sono tante strade diverse da poter seguire a seconda della situazione in cui ci troviamo e ci sono anche un po' di vicoli ciechi, nel senso che se non ci accorgiamo ad esempio di un'eccezione o di un requisito che ci manca, ci ritroviamo poi a seguire un percorso che non era quello corretto. Secondo me non è comunque inutile cercare informazioni online, l'importante è farlo avendo in mente un obiettivo che sia effettivamente raggiungibile. Quasi mai possiamo pensare di prendere delle decisioni esclusivamente basandoci su quello che abbiamo trovato facendo una ricerca online. Naturalmente per prendere la decisione avremo bisogno poi di consultarci con il commercialista o la commercialista che ci segue. Però cercare informazioni online in un certo modo, insomma facendolo correttamente, ci può aiutare ad esempio a conoscere in anticipo quali sono le alternative disponibili, a darci un'infarinatura della materia in modo tale che quando poi andremo a parlare con il commercialista o la commercialista saremo preparati a fare le domande giuste e quindi a tirar fuori il più possibile dalla conversazione che avremo con il professionista che ci segue. Andando un pochettino più sul pratico, la prima cosa a cui fare attenzione nel momento in cui facciamo una ricerca online è verificare che tipo di sito o di fonte un po' più in generale stiamo consultando. Questo non perché dobbiamo andare a scovare dei siti che riportino informazioni false, ma perché a seconda del tipo di sito che stiamo guardando ci potremo aspettare un livello sia di approfondimento che di accessibilità del linguaggio differente. E questo ha una grande incidenza poi sul modo in cui noi ci dobbiamo rapportare al contenuto che stiamo leggendo. In questa slide vi ho proposto una suddivisione dei siti e delle fonti che possiamo consultare in cinque categorie. È una divisione che ho fatto io e che non ha una pretesa di gerarchia in nessun modo. Non ci sono fonti in assoluto migliori di altre. Dipende tutto dal tipo di domande a cui stiamo cercando una risposta. Ad esempio, se la nostra domanda è diciamo una domanda molto diretta e circoscritta, alla quale per esempio la risposta è un numero, una data, una percentuale, per questa tipologia di domande di cui vi ho fatto qualche esempio, quindi l'aliquota IMS o una data di scadenza di un imposto o di un adempimento, in questo caso vanno bene più o meno tutte le fonti. Nel senso che è difficile trovare informazioni sbagliate su questo tipo di ricerche, a meno che non ce le troviamo a consultare magari una fonte datata, ma è oggettivamente abbastanza difficile anche perché per questo tipo di domande, nella maggior parte dei casi, nelle ricerche su Google, vi troverete davanti a quel tipo di siti che io ho definito specializzati in fisco rivolto al grande pubblico. Sono dei siti che si basano sul fatto di essere trovati nelle ricerche su Google e anche sull'aggiornamento costante. Io stessa mi ritrovo ogni tanto a cercare qualche informazione su questi siti perché è molto più veloce rispetto magari a risalire alla fonte originaria sul sito dell'IMSO dell'Agenzia delle Entrate. Per essere chiara sto parlando di siti che sicuramente voi vi siete trovati davanti, tipo fiscomania, fisco e tasse, partite via 24, siti di questo genere. Per questo tipo di informazioni vanno comunque bene anche questi siti, quindi potete andare abbastanza tranquilli. Se invece avete una domanda un po' più complessa, e per me complessa significa esattamente questo, che la risposta non è la stessa per tutti, ma la risposta dipende dalla situazione specifica di chi sta facendo la domanda. Vi ho fatto qualche esempio anche di questo tipo di domande, però diciamo che il punto principale è che per questa tipologia di ricerche bisogna prestare un pochettino più attenzione alla fonte che abbiamo davanti. Quindi va benissimo partire con una ricerca normalissima su Google, però quando abbiamo davanti i risultati di ricerca cerchiamo di capire che tipo di articolo stiamo leggendo. E questo principalmente per due motivi. Innanzitutto perché dobbiamo verificare che il contenuto sia sufficientemente esaustivo, quindi che non sia troppo riassunto o che magari non affronti la questione soltanto da un punto di vista. Se l'articolo non è sufficientemente esaustivo o ci sembra che alcuni punti siano accennati ma non molto approfonditi, è bene in questo caso magari andare ad integrare con altre informazioni che possiamo trovare, fare un confronto e vedere se i pezzi tornano tutti insieme diciamo nello stesso modo tra contenuti diversi. L'altro aspetto problematico che ci può essere quando facciamo delle domande un po' più articolate è che in questo caso le ricerche online ci possono restituire anche dei contenuti che non sono così accessibili, ma si tratta magari di contenuti scritti prevalentemente per commercialisti e per questo motivo con un linguaggio molto più tecnico e che oltre al fatto che potrebbe essere difficile da comprendere in generale potrebbe anche in certi punti essere forviante nel senso che magari vengono dati per scontati alcuni elementi dei quali invece non siamo a conoscenza perché essere un commercialista non è il nostro lavoro. Un altro aspetto molto importante a cui fare attenzione fondamentale e al quale insomma ci siamo un po' più abituati forse negli ultimi due anni sono le ricerche che riguardano quelle che vi ho chiamato le ultime novità cioè le leggi o i decreti che sono in corso di approvazione o sono stati appena approvati. Qui l'aspetto più problematico molto spesso è capire se l'articolo che stiamo leggendo si riferisce a un qualcosa che è già stato approvato e pubblicato quindi è definitivo o se invece è ancora in corso di approvazione potrebbero esserci delle modifiche siamo solo in combozze o indiscrezioni. In questo caso secondo me le fonti non sono proprio tutte uguali nel senso che a mio modo di vedere le peggiori sono le testate giornalistiche perché molto spesso scrivono proprio degli articoli molto confusi in cui non c'è scritto da nessuna parte se il decreto di cui si sta parlando è definitivo oppure no. In questo caso il mio consiglio è molto tranchant. Andate a cercare all'interno dell'articolo se trovate da qualche parte la data o meglio ancora il numero della legge del decreto. Se trovate questa informazione significa che questa normativa è stata pubblicata sulla gazzetta ufficiale e quindi siete tranquilli che il testo non solo è stato approvato ma è anche pubblico. Se invece non trovate questo riferimento da nessuna parte iniziate a chiedervi se forse si tratta ancora di una bozza o qualcosa che è ancora in corso di discussione. Andate a cercare quindi degli altri articoli su quello stesso tema e se su nessun articolo trovate il riferimento alla data o al numero del provvedimento dal mio punto di vista potete considerarlo non approvato. E quindi occorre prendere estremamente con le pinze qualunque cosa si riferisca a questa novità normativa. Prima di chiudere vorrei consigliarvi tre fonti da utilizzare nel momento in cui state cercando delle informazioni online su qualche cosa che vi riguarda. Non sono delle fonti che escono automaticamente molto spesso dalle ricerche su Google e quindi nel momento in cui avete bisogno di consultarle dovete sapere prima diciamo della loro esistenza. La prima fonte che vi consiglio diciamo sembra super banale ma in realtà non lo è perché io stessa mi diciamo incappo molto raramente in articoli del Sole 24 Ore se parto facendo una ricerca da Google. Non tutti i contenuti del Sole 24 Ore sono adatti diciamo al grande pubblico ad esempio il quotidiano non lo è assolutamente dal mio punto di vista perché soprattutto quando si parla di argomenti fiscali i contenuti sono scritti pensando a professionisti manager, imprenditori non certo diciamo alle piccole partite IVA e quindi non sono sempre di facile comprensione però sul sito principale Sole24ore.com potete trovare abbastanza facilmente dei contenuti che riguardano soprattutto tutti quei casi di decreti e leggi nuovi di cui parlavamo prima e io trovo che negli articoli del Sole 24 Ore si è sempre riportato molto chiaramente sicuramente molto più chiaramente che dalle altre testate giornalistiche a che punto esattamente ci troviamo quindi nel momento in cui volete capire se è un decreto che stavate aspettando è uscito o che cosa dice esattamente io vi consiglio di andare a proprio partire dall'home page del Sole 24 Ore e provare magari a spulciare gli ultimi articoli inoltre nel momento in cui questi decreti vengono poi pubblicati molto spesso vengono inseriti dei piccoli articoli molto pratici magari anche con dei video che spiegano esattamente le persone normali partite IVA o comunque cittadini in generale devono fare per poter accedere a tutto quello che il nuovo decreto ha previsto se volete vi potete anche scrivere la newsletter la newsletter è gratuita però vi dico già non tutti gli articoli poi i cliccabili sono gratuiti quindi diciamo è una bussola però poi solo alcuni contenuti si possono effettivamente leggere gratuitamente la seconda fonte che vi volevo citare è l'agenzia delle entrate purtroppo in Italia a differenza di altri paesi l'agenzia delle entrate non fa delle funzioni diciamo similconsulenziali però vi può dare comunque delle risposte per quanto riguarda innanzitutto aspetti pratici e anche in alcuni casi un po' magari di interpretazione della normativa se non siete sicuri se una certa cosa si possa applicare o meno al vostro caso i canali principali per contattare l'agenzia delle entrate sono due sono il call center che comunque funziona bene gli operatori sono molto preparati e potete fare delle domande invece per iscritto all'interno dell'area riservata del sito dell'agenzia delle entrate quindi potete accedere con il vostro speed e andando nella sezione assistenza e poi cliccando su webmail potete fare appunto una domanda una domanda per iscritto a cui vi verrà data risposta l'ultima fonte che volevo citare in realtà sono due diverse e che vi servono nel momento in cui quello che cercate non è una spiegazione di una normativa ma è proprio il contenuto originale di un articolo di legge di un decreto se questo è il tipo di ricerca che state facendo vi sconsiglio di cercare di usare la barra di ricerca di google e quindi di scrivere ad esempio legge 150 del 2020 perché è molto probabile molto spesso vi escono dei risultati magari in pdf o comunque su siti che non necessariamente riportano il contenuto della normativa aggiornato ad oggi quindi potreste ritrovarvi a leggere degli articoli di legge che in realtà non sono più validi per fare questo tipo di ricerche potete utilizzare uno di questi due siti che sono tutti e due siti ufficiali il sito del CERDEF include esclusivamente la normativa di tipo economico e finanziario quindi non c'è tutta la normativa esistente come invece su normativa ve l'ho proposto comunque perché il sito del CERDEF secondo me è un po' più facile da utilizzare quindi magari potete partire da qui e se poi non trovate la legge che stavate cercando potete passare all'altro sito grazie grazie a te davvero Giulia talk utilissimo perché a volte insomma è vero io condivido ciò che è stato detto prima non si parla mai abbastanza con la propria commercialista e tu in particolare avendoti sperimentata dal vivo sei sempre piena di risposte e anche di proposte però delle volte una ha anche bisogno di insomma cercarsi le cose al volo avere la risposta subito e vedere e sottolineo anche un'altra cosa finché la norma non è stata approvata stiamo dando aria alla bocca cioè quando soprattutto quando siamo in vigilia di finanziaria che sembra che debba succedere di ogni ma insomma a bocce io non le leggo neanche le notizie della finanziaria prima del 30 dicembre quando la approvano perché secondo me è tempo perso totale guarda indirizziamo le nostre energie al cazzeggio più utile bene è tornata anche con noi Miriam sono molto contenta così concludiamo avviamo verso conclusione la mattina insieme grazie di nuovo Giulia grazie a voi grazie a voi